ciao a tutti felice di stare con voi insieme a voi insieme al mio amico violinista che in queste giornate mi fa compagnia e mi trascorriamo chiacchieriamo molto e ascoltiamo molta musica e volevamo dirvi di stare forti contenti felici perché ce la faremo tutti e dirvi che dove non arrivano le parole arriva la musica grazie 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 grazie